Dal momento in cui la nuova generazione di Mercedes Classe A è stata presentata, l'attesa per la versione più sportiva è cresciuta con il passare dei giorni. Le indiscrezioni sul propulsore e sulla forma finale si sono succedute, ma alla fine il momento è arrivato. Ecco dunque la nuova Mercedes A45 SMG. Il propulsore, grazie alla S, guadagna 40 CV, toccando quota 420 CV, superando così la sua rivale più agguerrita, Audi RS3. 2.000 4 cilindri in linea turbo-benzina con un rapporto CV-litro da record. Il propulsore viene curato nei più piccoli dettagli e costruito dall'inizio alla fine da un unico tecnico, che vi applicherà infine la targhetta con la propria firma sopra. Questa è una delle differenze tra una vera AMG e quella A35 più generalista e meno attenta ai particolari. La trazione integrale 4Matic Plus, assieme al cambio ad otto rapporti DCT, le consentono di bruciare lo scatto da 0 a 100 in 3,9 secondi e toccare i 270 orari di velocità massima. Per la prima volta su questa nuova A45 SMG è presente un sistema di distribuzione della potenza che riesce a far prevalere la trazione posteriore, grazie alla nuova modalità di guida denominata Drift, consentendo così anche i sovrastersi di potenza, cosa che con la vecchia generazione non era assolutamente possibile. La nuova inoltre è disponibile anche in versione 45, con una potenza di 387 CV come la precedente. I dati dichiarati dalla casa sono veramente impressionanti per una hot hatch di segmento C e le doti dinamiche promettono altrettanto bene. Il prezzo non è ancora dichiarato, ma lieviterà notevolmente rispetto alla passata generazione per una vettura che punta senza mezzi termini alla leadership indiscussa del segmento.